La Confederazione Nazionale dell'Artigianato ha presentato le conclusioni e i risultati dell'indagine congiunturale sulle piccole e medie imprese ed ecco che vediamo un quadro composto da un campione di 827 imprese in base a un modello di analisi che ha permesso di elaborare previsioni sull'economia della regione sino al 2014. Tutto nel prossimo servizio. Il tunnel si è allungato, però in fondo c'è la luce. Che cosa vuol dire che il tunnel si è allungato? Significa che le piccole imprese di Roma e del Lazio, che sono come è noto la stragrande maggioranza del nostro sistema economico e produttivo, stanno soffrendo ormai da due anni. Le imprese ci dicono che sono ormai due anni che dalle famiglie mettono soldi in azienda e che i fatturati, gli investimenti continuano ad essere pochi. Quindi vuol dire che le imprese stanno in grandissima difficoltà. Detto questo però, ed è l'elemento positivo della nostra congiunturale, è che le analisi svolte dal CER ci dicono che nel 2013 la situazione potrà migliorare. Vale a dire il Lazio potrà tornare sopra la media nazionale. Quindi il tema che ci consegna questa dichiarazione è come sopravvivere in questo anno terribile, che è il 2012. Facendo ricorso alle banche, naturalmente. Facendo ricorso alle banche, le banche non devono lasciare solo le imprese, mentre abbiamo segnali che il costo del denaro è aumentato, i tempi si sono allungati e quindi ci sono molte difficoltà in questo senso. Però non basta soltanto il denaro, bisogna mettere anche iniziative positive. Una tra queste è l'internazionalizzazione. Bisogna mettere in condizione le nostre piccole imprese ed andarsi a conquistare i mercati che crescono di più. In genere sono le grandi imprese che vanno all'estero, ci devono andare anche le piccole. Un secondo elemento che ci consegna la nostra congiunturale è la rete. Le imprese che sono in rapporto tra di loro, che collaborano tra di loro, sentono la crisi meno delle imprese isolate. Quindi bisogna sostenere i contratti di rete e su questo le pubbliche amministrazioni possono fare molto.